Ma, torniamo a bambini, quando si facevano i giochi dei desideri impossibili, se lei potesse scegliere, preferirebbe che Dio esiste e che c'è un al di là, oppure, come mi ha detto una volta il Presidente Bertinotti, a cui aveva fatto un'intervista, lui preferisce che dopo la morte non ci sia nulla? Facciamo rispondere... Allora, è certo una cosa che io non andrò in paradiso. Guardi che chi punta a purgatorio va all'inferno, poi, è meglio puntare... Io non andrò in purgatorio, né io andrò all'inferno. Potrei quasi quasi congiungermi adesso con la signora H. Io sono paradiso. Non sono il, sono già adesso nella relazione di vero amore con Dio e mi lascio amare da Lui. Il paradiso non è un luogo, ma è una relazione. E il mio merito non è acquistare meriti, semplicemente è crescere nella mia personalità. Per cui, io sono paradiso. Se sono contratti, se sono egoista, sono inferno. Con la morte, semplicemente, si stabilizza per sempre il mio essere, io, in relazione o contro la relazione, cioè nell'egoismo. Secondo me, l'essere paradiso e l'essere inferno è una cosa estremamente seria. Non si può banalizzare al punto di identificarla con un luogo terrificante, con un luogo paravisiaco, come si dice. È molto, molto di più. A me non pretesto per chiedere come mai il mistero del nascondimento di Dio. Il mistero del nascondimento di Dio, Dio si fa percepire, non può essere manifesto, visto che è l'assoluto. Io lo percepisco in me, lo sperimento, e riesco a individuare, a intercettare i segni della sua presenza, dalla natura, da un cielo stellato, come da un campo infiorito, come dal volto di una persona, e specialmente la persona sofferente. Che ho sempre detto, e l'ho detto anche recentissimamente, in riferimento agli handicappati o altre persone comunque sofferenti, che sono un vero tabernacolo di Dio. Come io mi inginocchio davanti al tabernacolo dell'Eucaristia, così io mi inginocchio davanti a queste persone sofferenti, che certamente hanno la presenza di Dio e sono destinatarie, sono dei candidati veri all'essere paradiso. Queste, dunque, secondo me, sono le mie profonde convinzioni. Dico che un Dio nascosto, per fortuna, è nascosto, perciò non ci costringe a sceglierlo a tutti i costi. La libertà che lui ci ha dato passa anche attraverso il suo nascondimento. Sono stato bravo, ovvero. Breve, meno. Ci lascia la libertà di dirgli di noi. Certo. Altrimenti il mondo sarebbe un grande campo di concentramento in cui tutti si sarebbero portati. Dio sarebbe un marionettista, e più nemmeno, che è una cosa, anche perché volevo appunto chiedere alla signora H, in quale Dio lei non crede? Questo Dio qui, no. Ecco, meno male. Un Dio che c'ha, quando c'era cartelloni, tante indulgenze si fa. Ecco, un Dio che lo scatta faccio e segna. Oh, per carità. Chi c'è stato? Ha ragione, ha ragione. Neanch'io credo in quel Dio lì. Per carità. Però, professoressa, lei prima ha detto che ritiene Gesù di Nazareth uno dei più grandi uomini della storia, no? Uomini, non Dio. Uomini, uomini, sì. Allora, la mia domanda di prima, io la perfeziono. Se potesse scegliere, le farebbe piacere scoprire che quest'uomo è anche Dio fatto uomo, e che quindi, dopo la morte, lei si trova faccia a faccia con lui. Se potesse scegliere, preferirebbe che il cristianesimo fosse vero, oppure che fosse un'illusione, come lei crede? Boh, no, credo, mi piacerebbe un al di là di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, anche i miei animali a cui ho voluto bene. Però non credo alle favole, e quindi la figlia una bacione. Ah, d'accordo, però potendo scegliere preferirebbe. Ah, perché no, ritrovarsi tutti insieme. Chissà che affollamento ci sarebbe, però. Quella mamma, quella mamma che tende la mano. La mia mamma, la mia mamma. È bellissima, è bellissima, è una cosa... Ed è poesia, razionalità, eh. La poesia è razionalità, non è fantasia pura, eh. È razionalità che coglie nell'intuizione le profondità dell'essere umano, comunque. Quindi c'è un po' di dolore nel credere che non c'è nessuno? No, dolore no, assolutamente, no. Uno può dire che sarebbe una bella favola, ma poi... E se fosse motivo di gioia? Una volta siamo finiti. Il credere di felicità vera? Come? Se fosse motivo di felicità vera, cioè di capire che il senso della vita sta tutto lì. E dico per me... E sono felice, sono felice perché ho fatto un lavoro che mi piace, perché ho avuto fortuna con la mia famiglia, con il mio compagno. E i poveracci che invece sono nei sconfitti della vita, che cosa ci stanno a fare? Era meglio che non venissero al mondo? Soltanto la felicità in questo mondo non ripaga nessuno, questo è il problema. Eh, ma lei dice che sarebbe bello, ma non è così. Però sempre nel rispetto, ecco, questo si sa. Ma, però, dica la verità, lei che ha condotto, mi pare che ci siamo anche rispettati, quindi, veramente, questa serata è da annali per il modo con cui ci siamo trattati con molto rispetto. Ecco, almeno questo. Anche se si doveva prendere appunti. No, no, assolutamente, assolutamente. No, va bene, va bene. No, professoressa, però a volte qualcun altro usa toni diversi, no? A volte queste discussioni finiscono male, finiscono con tensioni. No, ognuno resta come la pensava prima. Sì, però ci sono a volte in cui, insomma, ci sono anche scienziati che dicono che c'è la prova della non esistenza di Dio e viceversa, insomma, mi pare che questa sera sia stato un... Sono non scienziati, se Dio non c'è la prova. Dico semplicemente che io sono stato molto contento di aver incontrato voi, la vostra benevolenza nell'ascoltarci tutti, probabilmente avreste una serie, una concatenazione di domande interessantissime, allora domani mattina saremo ancora qui, invece il sonno ha, insomma, anche i suoi diritti. Grazie infinitamente della vostra presenza. Grazie a tutti, grazie professoressa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.